Ecco Goulam, c'è la norma del vantaggio, attenzione al cross. Occhio all'occasione per riaprire il match. E c'è il gol, di mezzo era lo svantaggio, adesso tutto può succedere. C'è il tempo per farne un altro e pareggiarla, occhio però eh, non concedere spazi dietro. Continua il volo che non lascia scampo al portiere, un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione.